bentornato sul mio canale smr se invece questa è la prima volta che mi vieni a trovare io sono Alessia Crescent e ti voglio dare un enorme benvenuto sul mio canale smr ovviamente allora oggi ci sarà la seconda puntata dello show and tingle la prima puntata se non te la ricordi o se non l'hai ancora vista ti aiuto io, ti lascio il link del video in descrizione così se hai voglia te lo puoi ricordare se non l'abbai visto e sei curioso vai a vederlo appunto oggi farò la seconda puntata di quello che ti avevo già detto che sarebbe stata una serie di video e il video di oggi è uno show and tingle unboxing edition e anche un po' makeup edition perché uno degli oggetti che spacchetterò è a tema makeup allora che differenza c'è tra questo video e il primo? sostanzialmente che nel primo video ti facevo vedere degli oggetti che sono oggetti per me di uso quotidiano e in questo caso sono oggetti che per me saranno di utilizzo quotidiano ma che non ho ancora visto io per prima nel senso chiaramente so di cosa si tratta perché li ho acquistati io però la maggior parte delle cose mi è arrivata per posta quindi ho aspettato per fare appunto l'unboxing per avere i pacchi per vederli insieme a te e per farti ovviamente ascoltare dei suoni che spero ti aiuteranno a rilassarti moltissimo a rilassarti perché non ce lo dimentichiamo questo è sempre il mio primo compito sempre come dicevo non so se l'hai sentita ma c'era una moto mi mancavano quasi queste moto perché durante le feste il traffico ovviamente si era calmato adesso sono tornati tutti tutti con gli interessi sono tutti qui comunque noi non ci facciamo fermare da e andiamo avanti con il nostro video allora 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 il primo oggetto che ti voglio mostrare è appunto l'oggetto a tema make up e sono delle palette di ombretti per il trucco che ho acquistato su un sito inglese c'è da dire che io non mi trucco molto mi trucco semplicemente diciamo faccio un trucco molto veloce durante la maggior parte delle mie giornate quando sono in casa non mi trucco chiaramente e quello che faccio a mettere una crema colorata ho un fondotinta molto leggero l'eyeliner per fare la codina all'occhio il mascara e la matita per le sopracciglia perché essendo io molto chiara di capelli naturalmente ho pochissime sopracciglia sono molto molto chiare quindi ho l'espressione di datuata più o meno quindi ho bisogno quella è proprio una necessità quindi niente è un po' di blush sulle guance ma più di là non vado quindi è molto difficile che io faccia dei trucchi complessi e che quindi utilizzi anche l'ombretto l'illuminante il rossetto anche il rossetto non lo metto spessissimo per quanto mi piacciono molto è il neo anche un bel po' però ultimamente mi è venuta un po' questa fissa per gli ombretti anche e dato che mi piace insomma sperimentare trucchi per quando faccio video ho deciso di ampliare un po' la mia collezione di ombretti quindi come primo oggetto andiamo a vedere questo diciamo che il suono già diciamo di primo impatto mi sembra molto interessante quindi io direi di ascoltarci un po' il suono del pacco ancora chiuso e poi lo apriamo insieme e poi Sì I suoni di questo tipo, quelli che comunemente si chiamano crinkle sounds e sticky sounds, sono tra i miei trigger favoriti. Ok, andiamo a vedere con te. Andiamo a vedere con te la busta. Allora, cercherò di starle sperando di non fare troppo rumore. Una. Wow! E' la prima. Il brand è lo stesso per entrambe, ovvero Makeup Revolution. È molto bella. Questa qui è una palette limited edition che hanno fatto insieme a questa più altre due o tre palettes. Ovviamente è diversa la combinazione di colori degli ombretti all'interno. Questa qui hanno una collezione che si chiama Life on the Dance Floor. Questa nello specifico si chiama Guest List. Mi piacciono tantissimo questi suoni appiccicosi. che poi gli ombretti. E poi gli ombretti, sì, gli ombretti, certo. I brillantini si sentono un pochino in rilievo, ma non rischiamo di staccarsi. Sono plastificati sopra comunque. Allora, questa l'ho presa perché ultimamente mi piace molto indossare ombretti rossi, viola, arancio, giallo, insomma colori grandi. Perché con i capelli blu, secondo me, stanno benissimo. Quindi ora ti faccio vedere. Non vorrei fare troppo troppo rumore. C'è lo scotch. normale amministrazione. Non ti preoccupare. Io sono fatto così. Sono fatto in bambita. Di natura proprio. Ok. Ho tolto lo scotch. Aperto. Vediamo un po'. Oh, che belli. Sono bellissimi. Cosa se li vedi? Comunque, ci sono anche i nomi perché ogni ombretto ha... e... Allora. Allora. Il primo si chiama... Ciaccia. 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 Poi abbiamo slide, slide, in più c'è questo, lock it, lock it, lock it, lock it. Discorriamo magari un po' più velocemente, questo è difficile, jive, credo si pronunci, jive, poi shake it, giustamente, life and dance flow, shake it, poi abbiamo two step. Two step, two step, point, light up, light up, light up, light up. Poi c'è neon, 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 neon. Abbiamo poi get down e lose, creo, hip, roll, roll, anche roll suona molto bene. Poi 2am, throwback, throwback. Poi abbiamo bold e successivamente lose it. Poi c'è lean back. Quello successivo è grind. Poi c'è stuff. dark corner, black light, e l'ultimo sleeve, che mi sembra perfetto per questo video. Molto molto bello. Bene. Questo sicuramente lo dovrò abbassare perché ha fatto un rumore assurdo. passiamo all'altro palette che è più piccolina e che ora rompo tutto e che in questo caso non ha nomi. qui c'è lo scotch, ma stavolta siamo pronti ed è differente, è trasparente e questa è una palettina di 4 e la palettina si chiama Reloaded. Questa qui in particolare si chiama Iconic Division. Questa qui in particolare si chiama Iconic Division. Quanti tanto le unghie scivolano sulla plastica e fanno un giorno strano, come un fischio simbilo. Apriamola. Ok, scotch eliminato. Ecco qua. Anche questi colori sono molto belli. sono più tendenti al verde, marrone, però ci sono questi due sotto che sono sempre... un pesca, questo è un senape e anche questo è giallo e un po' aranciato e quindi mi piacevano anche perché sono dei colori un po' meno accesi. e per alcuni roleplay che ho in mente di fare secondo me si prestano molto bene. ovviamente se hai qualsiasi suggerimento da darmi anche nelle prossime roleplay che vuoi vedere... lasciami un messaggio, mandami un messaggio, insomma fammi sapere. e questa era la seconda palette. Questo suono è stranissimo, non mi piace. Ok. Bene, il prossimo oggetto che ti faccio vedere è una cosa che... non ha bisogno di un unboxing perché l'ho comprata ma non l'ho ancora utilizzata. quindi è nuova. però non aveva nulla... diciamo... a protezione. solo la plastica che ora ti faccio vedere. ed è... questa candela. avrò fatto una faccia bruttissima però non era bello. Comunque... allora... come ti ho già detto altre volte io adoro le cantelline a tantissime e... malgrado ciò ne compro a pintali perché mi piacciono. anche quelle profumate come questa però sugli autori sono molto particolari perché... molto spesso i profumi mi fanno venire mal di testa. quindi me ne piacciono pochi e... cioè mi devono proprio piacere. e generalmente... scusami... le candele con il profumo più buono mai creato sono quelle alla... vaniglia o gelato come... diciamo... come preferiscito perché... sul disegno... nell'erichetta c'è il gelato e la vaniglia però... insomma l'odore è quello dell'Ikea. hanno il profumo più buono mai sentito. cioè se potessi avere una crema corpo, un profumo... un detonante... li comprai tutti, mi ci farei... questo ha un buon odore... però non ti so... raccontare che odore abbia perché... è particolare... non è vaniglia... non è... non lo so... sembra un po' floreale come odore... e... profumo a vaniglia... non l'avevo neanche visto però... diciamo che io l'ho comprata per il colore perché le altre... due tonalità... non mi piacevano moltissimo... comunque non stavano bene in casa... perché ce n'era una rosa pallido e... non sono di padrona... e l'altra invece era un fucsia carico... eh... però in casa mia non c'entrava veramente niente... e... una cosa che avevo sempre desiderato comprare era... appunto una candela con più stoppini... perché non ne avevo ancora... in genere costano un pochino di più di quelle... diciamo... normali per virgolette... però l'ho trovata e ho detto... la prendo... però non avevo visto in effetti che questo è profumo vaniglia... e poi c'è scritto un candelino sotto... ho la faccia della candelina... quindi adesso ascoltiamo un po' di tapping... sulla candela... qui... giochiamo... qui... e... qui... qui... Grazie. rumori di candele in botolino e miei preferitei ok ok andiamo avanti ah peraltro ti faccio vedere sono andata a finire il tatuaggio è un po' complicato da farti vedere ho approfittato delle feste ho detto va finito perché erano passati anni e mio mio amico che mi ha tatuato giustamente mi ha detto che è deciso quindi ho deciso di andare e farlo finire anche perché io pure non vedevo l'ora però insomma tra impegni poi in più per un periodo non sono state in Italia quindi una cosa o un'altra non ci sono state le occasioni tanto più che poi io quando mi tatuo da sola o si mi tatuano gli altri non soffro non sento quasi niente neanche durante dopo sedute lunghe o in punti un po' diciamo così che si sa che sono più fastidiosi io me la capo benissimo per fortuna quindi il problema è semplicemente appunto una questione di tempo più che altro detto questo si andiamo avanti stavo pensando ancora da farti vedere prima ti faccio vedere queste cioè il suono mi piace da lontano è sempre un pluriball però più piccolino e anche un pochino più consumato allora leo due però ne apro solamente una perchè è più facile ovviamente da maneggiare e poi sono uguali quindi e anzi sono perchè sono due delle piccole corollici in realtà come dice l'etichetta è un appendino portafogo non so perchè mi fa così dire appendino portafogo anche l'ambulanza anche l'ambulanza e si è fermata proprio qua sotto ora mi dispiace ma manco a farlo apposta speriamo non sia un'etichetta comunque ed è una cornice come dicevo tornando a noi in cui non so se riesce a vederlo praticamente si apre qui e tra la plastica e il feitro inserisci la foto e poi lo puoi appendere questa è in realtà una decorazione di Natale la vendevano nel periodo natalizio per per essere appesa all'albero però io ne avevo acquistate due non da mettere sull'albero perchè sono effettivamente sull'albero diciamo di dimensioni normali sono un po' grandi e poi pesa abbastanza e non volevo che le due bestiore me le rompessero perchè comunque intorno è di goccio credo e come lo so perchè una l'ho notta io ecco quando ho provato ad appenderla la prima volta mi sono dovuta poi un po' ingegnare per appenderla effettivamente perchè non hanno nulla per essere appese e questo l'avevo tolto non volevo sfruttare questo questo cancio e questo l'albero quindi va bene comunque allarme di entrato oggi è stato tutto e successivamente mi è capitato di trovarle dopo il periodo natalizio che ancora ne vendevano alcune ne avevano anche abbastate di prezzo come se già costavano pochissimo già l'inizio e quindi ho pensato di prenderne altre due perchè ne avevo già due e quindi ho pensato di prenderne altre due magari per fare per appenderle dall'altra parte del letto quindi farlo specchiato sono un po' fissata con le simmetrie io comunque sono veramente piccoline come puoi vedere infatti e infatti dentro quelle che ho vese ci sono solo le facce le racciacce delle mie due gattine che prima o poi ti farò conoscere e che ho sempre paura di farla entrare quando faccio video perchè essendo loro molto espansive e molto curiose ho paura che farebbero cadere microfono fotocamera tutto quello che ho preparato per i video a me distruggendo tutto dovrei prenderle magari in un momento in cui si addormentano iniziare a fare il video magari dove stanno dormendo o fare il video insieme a qualcuno ad esempio non so con un mio ragazzo oppure magari un giorno mio fratello vuole farmi l'assistente quindi mi fa anche un bacino a mio fratello perchè spero che guardi i miei video spero che guardi i miei video comunque non so ancora cosa inserirò in queste manite mi fermate questo suono mi piace molto molto piace è che che sì mi piace che ben che ce qui sch è che che un po' un po' Il prossimo oggetto che ti faccio vedere è avvolto in altro pluriball. E su questo oggetto ho un simpatico netto. Cerco di estrarlo senza diventare sorda. Ok, ho tolto il pluriball. Come dicevo, intanto sono delle palline di Rappan. Che mi servono per delle cose che hai in mente di fare per casa. Essendo un architetto io. Insomma, ogni tanto mi vengono queste fisse. In realtà le vorrei utilizzare anche per fare uno sfondo, per fare video. Poi ti farò vedere. E quando le ho ordinate, ovviamente ho dato un indirizzo di spedizione con l'interno, la scala, eccetera, eccetera. Perché il mio palazzo in cui vivo è in un comprensorio di altri palazzi. Chiaramente all'interno di una corte con il giardino. Insomma, sono vari palazzi, varie scale. E generalmente quando il bustino arriva, chiaramente è citofona. E anche se non ti porta, non c'è un pacco da firmare o comunque non ti porta il pacco. Diciamo, ovviamente nell'appartamento comunque ti avverte che c'è qualcosa che devi scendere a ritirare. Mentre io, proprio quando sono andata a finire il tatuaggio, sono uscita. E passando, uscendo dal portone, ho visto che a terra dentro il portone c'era un pacco. Mi sono avvicinata e non c'era un nome sopra visibile. Quindi era un po' di fretta e sono uscita. Allora, la sera quando sono tornata a casa, mi è caduto l'occhio a terra. Vedete? Contevo l'occhio di vetro. Mi è caduto a terra. No. Mi è caduto, insomma, lo sguardo. Ho guardato a terra. E il pacco era aperto. E dal pacco, dall'apertura del pacco, facevo il tavolino, le palline. E ho capito che erano le mie che avevo ordinato io. Quindi sono andata a prendere il pacchetto da terra. Ho girato il pacco dietro. C'era nome, cognome, indirizzo, scala, eccetera. Innanzitutto, grazie. Grazie Bostino dal profondo del cuore per avermi fatto sapere che c'era un pacco per il quale io ho speso i miei soldi. E soprattutto grazie a te, inquilino di non so quali piano, che hai aperto il pacco malgrado sopra ci fosse un nome che non era il tuo. E il mio dubbio è che se ne passano se fossero state palline di Raddall, ma qualcosa di più consistente a livello economico. Io oggi non avrei questo oggetto da farti vedere. Comunque, aperta e chiusa a fare entesi tanto per farti partecipe delle mie avventure quotidiane. Comunque, vorrei provare a prendere un paio di palline dal sacchetto per vedere se riesco a fare qualche suono carino. E questo è un paio di palline dal sacchetto. E questo è un paio di palline dal sacchetto. E questo è un paio di palline dal sacchetto. come ti dicevo anche l'altra volta questi show in tingle saranno degli esperimenti che io faccio con te perché ovviamente sono suoni che io ho deciso di farti sentire dei suoni di volta in volta che io non conosco che io non ho provato prima perché io quando devo fare un video o anche se non devo fare un video spesso metto le cuffie, accendo il microfono e cerco di capire i vari oggetti che suoni e facciano anche per utilizzarli chiaramente per video successivi però ho deciso che con per gli show in tingle questa cosa non la faccio sono andiamo un po' per oggi e per oggi scusami mi sembrava di aver sentito un miagolio scusami mi sembrava di aver sentito un peccato Sì il prossimo oggetto è un oggetto molto popolare nei video ASMR io ne avevo un altro in casa e non ho ancora voluto volutamente effettivamente provarlo e vedere che suono faceva con il mio microfono quindi sentirlo proprio dal vivo proprio in vista di utilizzarlo in un futuro show and tingle e per l'occasione ne ho comprato un altro avvolto nel nostro amato l'Uribon e divido con questo oggetto ce ne sono veramente una miriade però adesso sono curiosa di sapere che suono fa dal vivo è uno slime che si intona perfettamente ai miei pelli ed è uno slime di quelli tipo col colore diciamo tipo galassia perché ha tutti i miei e anche i miei pelli non so se lo vedete però anche la confezione è fatta a forma di pianeta cioè ci sono tutte delle irregolarità sulla superficie della plastica e anche insomma questo dovrebbe dare un po' credo la successione nello spazio oh mio dio ma è super liquido non pensavo siamo cioè proprio ne è proprio venito 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 venuto via un pello ah no ok si era rotta la confezione perché sopra c'è la plastica essendo nuovo ecco quindi questo pezzo si era separato dal resto credo vabbè lo facciamo qui per ora ecco ok se riesco voglio ovviamente ecco si si è uno slime in piena regola a tutti gli effetti sono un po' più cosa pensavo facesse più rumore cambia la mia voce però che strano è molto a parte che sta colando comunque la mia voce è molto più vattata si senti bene così è più chiara così è più vattata questa è interessante è molto saluta è un po' più risulta acqua risulta acqua non lo sto toccando e sta semplicemente colando ho trovato un assistente che fa i video smr al posto mio non sto facendo volerlo non c'o è molto strano, stranissimo mi sento come una pollina di 50 non lo so 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 ok non lo so 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 non ha un odore buonissimo per fortuna c'è l'odore della candela che è il confezio qui che ok bene lo rimetto nel suo pianeta e gli do anche la parte che si era staccata ecco fatto speriamo che si amalgamino bene ecco qua e questo è l'ultimo oggetto dello show di oggi il prossimo mi ha macchiato le mani cioè mi macchiano le mani i capelli di blu adesso anche lo slime i prossimi video penso che diciamo che io come dico sempre ho una scaletta e sono indecisa sul prossimo video da fare e a questo proposito volevo chiederti un consiglio sono indecisa se fare diciamo così accontentare una richiesta ovvero un un whispering però un intelligible quindi di quelli incomprensibili spero di averlo pronunciato bene e quindi con frasi parole dette ma non comprensibili e accompagnate dal movimento delle mie mani o altrimenti se fare un video sempre ovviamente rilassante in cui più diciamo un po' più serio un po' più chiacchiericcio tra virgolette in cui invece ti racconto qual è stata la mia esperienza per quanto riguarda gli attacchi di panico l'ansia e l'insonnia perché ci pensavo in questi giorni insomma diciamo che mi farebbe piacere parlartene e soprattutto mi farebbe piacere se la mia esperienza potesse essere di qualche modo di aiuto o di conforto per confrontarci o anche semplicemente insomma per conoscerci meglio ed era una cosa appunto su cui ragionavo in questi giorni ho anche diversi roleplay in mente per i prossimi video ma diciamo nell'immediato sono un po' deciso diciamo principalmente tra questi due video quindi se vuoi lasciarmi la tua opinione vuoi darmi la tua opinione lasciami un messaggio sotto al video o mandami un messaggio privato come preferisci assolutamente e detto questo ti saluto ti ringrazio tantissimissimissimo dal più profondo del cuore per essere stato con me oggi spero che tornerai a trovarmi e oggi non ho ancora fatto rumore sul microfono con i capelli lo faccio sempre perché mi piace e e niente spero di rivederti qui sul mio canale e spero che seguirei anche i miei prossimi video e ti mando un bacio con le mani schifosamente di slime e ti auguro la buona notte o una buona giornata in alternativa grazie mille a presto grazie a tutti 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 grazie a tutti